Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Tu sei benedetto fra tutti gli uomini e benedetto è Gesù, il frutto di Maria tua sposa fedele San Giuseppe degno padre e protettore di Gesù Cristo e della Santa Chiesa prega per noi peccatori E tienici da Dio la divina sapienza adesso è l'ora della nostra morte Amen San Giuseppe degno padre e protettore di Gesù Cristo e della Santa Chiesa prega per noi Peccatori peccatori E ottieni ci da Dio la divina sapienza adesso è l'ora della nostra morte Amen Oh 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 Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS